Ciao ragazzi, un saluto da Mr. Crypto. In questo tutorial ci andiamo a vedere su Bybit Exchange le funzioni del wallet, del wallet spot ovviamente, perché è quello da cui preleviamo e versiamo. Perché questa cosa? Perché voi tutti quanti lo sapete che, per fortuna che è anonimo ancora, che fino a due bitcoin al giorno si possono prelevare e che ci permette di operare sui future e anche sul wallet spot. Binance non ce lo permette più purtroppo, da ottobre vengono tolti i future per tutti quelli pre-iscritti e per i nuovi iscritti non ci si può proprio più già registrare. Bybit invece permette tutto questo. Una cosa positiva veramente è anche che Bybit al momento non ha ancora la sua moneta, quindi semmai ci penseranno, perché sarà il prossimo passaggio, e arriverà un su token, noi saremo qua dentro prima che tutto il mondo ci entri dentro, essendo che potrebbe essere il futuro piccolo Binance. Comunque, a parte questo, andiamo a vedere una cosa. Sapete le regole dei prelievi che ci sono? Ancora adesso, se noi andiamo a vedere i prelievi di Bybit, ok, ci sta dicendo qua. Aspetta che ve lo metto in italiano così lo leggete e capite bene anche voi. Dice che l'importo minimo, vabbè, 0.01 bitcoin e ci sta. Tieni presente che Bybit elabora le richieste di prelievo solo tre volte al giorno, 8 della mattina, 4 del pomeriggio e mezzanotte. L'orario limite per le richieste di prelievi sarà 30 minuti prima dell'orario di elaborazione del prelievo programmato. L'aggiornamento garantisce prelievi più rapidi ed è ora in soft lunch. Questa è la magia di cui parliamo oggi. Fino a oggi, e ancora in questo momento che vi sto parlando io, valgono queste regole di Bybit. Ma c'è un ma, cioè in poche parole. Fino a oggi si può prelievare e si poteva prelievare ogni 8 ore. Tu facevi i prelievi nelle 8 ore precedenti, non parte subito, sai che alle 8, alle 16 e alle 24 partono i prelievi fatti nelle 8 ore precedenti. Stanno aggiornando i sistemi proprio in questi giorni, in questi momenti. Siamo al 26 agosto, quindi per questi 7-10 giorni potrebbe, non potrebbe, potrebbero migliorare, cambiare, spostare, aumentare, ma quello che non interessa è che lo stanno facendo. I prelievi verranno effettuati direttamente tramite il conto spot. Per prima cosa trasferisci manualmente i fondi sul tuo conto spot. E con il tastino qua sotto anche trasferisci ora. Come vedete hanno veramente puntato e stanno veramente puntando verso il futuro, verso la crescita, verso dare anche la libertà assoluta di poter utilizzare i nostri fondi, che sono dentro il nostro account, di tutte le coin, di tutte le coin che oggi sono disponibili dentro il wallet spot, di poterne utilizzare nell'immediato. Ma andiamo a vedere appunto come si fa un prelievo. Esempio, andiamo a vedere, io voglio, ho bitcoin qua nel wallet spot, quindi clicco su preleva bitcoin. Preleva bitcoin, mi si apre la pagina che abbiamo visto prima, dove qui mi dice di andare ad aggiungere un indirizzo. Od oppure, se io ne ho già aggiunto uno, io come nel mio caso, qua ci sarà la freccetta, inserisci questo portafoglio. Ok? Così succede. Ma facciamo finta che noi questo portafoglio qua non ce l'abbiamo, perché voi non l'avete ancora inserito. E quindi vado a mettere qua, aggiungi. Come abbiamo detto, qua avremo la lista dei nostri portafogli. E possiamo anche, in qualunque momento, andare a cancellarlo. Conferma che vuoi cancellare. Qua invece c'è il tasto aggiungi. E qui si va a cliccare su aggiungi, bitcoin, tipo di chain, bitcoin. Qua si inserisce l'indirizzo e qua gli metterete un nome, a caso gli metterete. Mr. Crypto, che ne so, VTC Wirex. Così vi ricordate che è il vostro account. Conferma e quando confermerete ve lo troverete qua. Quindi ogni volta che poi torneremo indietro per andare a fare un prelievo, quando sarà ora di fare prelieva, avremo qua, non da aggiungere, ma da scegliere qua sotto, cliccare sul nostro indirizzo che rimane memorizzato. Mettiamo quindi chi io voglia qua versare dei dollari, USDT. Vado qua in Withdrawal, scegliete la blockchain ERC20 o TRC20, in base a quella che voi preferite utilizzare, in base ai costi di commissione. E qui, come sempre, dovremo andare ad aggiungere il portafoglio. Quando fai aggiungi portafoglio, ogni volta che ne aggiungi uno nuovo, ti chiede qua, ad esempio, la USDT, abbiamo detto che utilizziamo la rete, io utilizzo TRC20 perché costa meno, tanto è supportata. Qua gli metterò il nome, MrCryptoUSDTBinanceTRC20. Ok? Così non mi sbaglio proprio. E poi vado appunto su Binance, andrò qua, cercherò la moneta che sarà USDT, qui, qui USDT qua sotto, ok? Qui devo prendermi l'indirizzo del mio portafoglio, quindi mi dice di scegliere la rete, abbiamo detto che scegliamo quella TRC20, e nella TRC20 mi dà l'indirizzo. Io me lo vado a copiare, torno su Bybit, e qua mi metto l'indirizzo TRC20. Conferma, questo qua è l'indirizzo TRC20, e giustamente, come dicevano prima le impostazioni, mi chiede di mettere il Google 2 AUTH, che io mi sono precedentemente salvato, ma sull'applicazione di Authenticator, la apri, ti dà il codice che si annulla ogni 60 secondi, tu lo inserisci, nel momento che lo vai a inserire, ti autorizza la memorizzazione di questo portafoglio. Ed eccolo qua. Questo qua è il mio USDT in TRC20. Quindi, quando io torno indietro, qua adesso posso ricevere USDT. Quindi, depositare USDT, rete TRC20, confermo che questa qui è la TRC20, vado su Binance, quindi io copio, vado su Binance, questo qui non è più deposita, ma è su USDT. USDT devi fare un prelievo, quindi USDT prelievo. USDT, indirizzo, è questo qua che abbiamo preso da Bybit, lo vediamo, no? Questo qua, di Bybit, l'abbiamo messo su Binance qua, l'indirizzo del portafoglio corrisponde, ed è giusto, mi dice che ho 208 dollari, io gliene voglio mandare 108. Ne ricevo 107, perché le tasse di Binance sono di un dollaro per spostare su TRC. Mi chiede il codice di verifica di email, inviato, e poi ti chiede il codice 2FA. Se i codici che avete inserito sono perfetti, vi dice che li ha inviati, e quindi transazione completata. Binance dice che io ho inviato i fondi a Bybit. Perfetto. Quindi adesso io sono in attesa proprio, i tempi proprio della blockchain, che arrivino qua i fondi. Abbiamo visto come si fa a memorizzare un portafoglio, e andiamo a vedere a questo punto anche come si fa nel prelievo. Perché? Perché come abbiamo visto prima, era il deposito, adesso io devo prelevarlo. Potremmo andare a vedercelo in diretta, magari su Bitcoin. Quindi preleva, preleva Bitcoin, da rete Bitcoin, dove vuoi mandarli? Voglio mandarli sul portafoglio Bitcoin di Binance. Quanto? Voglio mandare solo 0.01. Ok, preleva, inserisci il codice che ti abbiamo mandato via email, e il Google Authenticator. Ecco, a partire da questo momento i fondi arrivano da 10 a 30 minuti, non più come prima, ogni 8 ore, mezzanotte, 8 della mattina, 4 del pomeriggio. Adesso li stanno facendo istantanei, veramente bello, veramente fantastico lo spot account, così come è bello anche i derivati. È semplice, lo vedete, è pulitissimo proprio. E poi ragazzi, veramente, spot account, stanno aggiungendo tante monete. Lo vediamo anche dal mercato spot, che sta cominciando a muoversi e cominciano finalmente ad arrivare volumi, che cominciano ad essere interessanti. Ci siamo sui 9 milioni di volumi e con 197 Bitcoin nelle 24 ore, perché lo spot è una novità. Quindi Bybit era solo derivati. Spot è una novità e sta facendo tutto quello che... Guardatelo, Binance, Bybit, sta facendo, Binance sta facendo, lo sta ripetendo. E qua ci sta dando la possibilità già di operare con monete contro dollaro e contro Bitcoin. Ragazzi, questo è Bybit. Abbiamo visto all'interno del nostro profilo degli asset, come si fanno i versamenti, come si fanno i preglieri, come si memorizza un portafoglio e soprattutto la blockchain da utilizzare. In questo caso Bitcoin, perché era di Bitcoin, avevamo memorizzato Bitcoin, ma come abbiamo visto, dove si utilizzano le pluriblockchain, abbiamo la possibilità di scegliere ERC20 e io non ce l'ho, ho un TRC20. Voleste aggiungere l'ERC20, ragazzi, ERC20, aggiungi indirizzo perché io non ce l'ho l'indirizzo, quindi aggiungi USDT, ERC20, diamogli un nome che è MrCryptoUSDTBinance ERC20, quindi vado su Binance, vado a cercarmi nel mio WalletSpot, vado a cercarmi USDT, quindi USDT, faccio il deposita in ERC20, mi vado a prendere l'indirizzo ERC20, quindi copia, torno su Bybit, incolla indirizzo, conferma, mi chiede il codice 2FA, inserisco il codice, do la conferma, ed ecco che il portafoglio MrCryptoUSDT Binance TRC20 mi è stato aggiunto e qua c'ho l'ERC20, così che quando vorrò fare io in qualsiasi momento un prelievo in dollari, posso farlo tanto in ERC20 perché c'ho l'indirizzo ERC20, tanto in TRC20 perché c'ho l'indirizzo TRC20, e così che funzionano i nuovi prelievi istantanei fatti da BybitExchange a quella comunità che ha voglia di continuare a crescere, ma anche in anonimato, come ci ha permesso Binance fino ad oggi. Quindi BybitExchange, trovate come sempre i link per iscrivervi nella descrizione del video. Allora ragazzi, quando andiamo a vedere un video, o un video qualunque, ad esempio questo qua, se io clicco per andare a vederlo online, e lo fermo, ciao ragazzi, qua sotto nella descrizione del video, intanto il mi piace, perché non fa mai male. Il primo qua, questa è la descrizione del video, la descrizione che c'è dentro YouTube, e qua sotto Show More, che se lo mettete anche in italiano, per voi diventa, mostra di più, sotto il video lo vedete proprio qua sotto, appena lo aprite c'è dentro il mondo, c'è tutta la spiegazione, con tutti i reflink, di tutto, per essere sempre aggiornati, informati, ma per non sbagliare su nulla. Perché qua sotto c'è veramente tutto, anche i voti di come riceverli in omaggio, come iscriversi, i reflink per partecipare. Ricordatevi sempre, mi piace, e poi qua sotto, tutta la descrizione. Mostra meno, ovviamente, non c'è più niente, si legge solo questo. Mostra di più, vi si apre l'intero mondo. Quindi ragazzi, torniamo a noi, sul nostro bellissimo, Bybit Exchange, nostro wallet, ed eccoli qua, gli USDT già arrivati, è cambiata la composizione, del mio portafoglio, come vedete qua, bellissimo, ci da, è proprio Bybit, è fatto bene. Qua i fondi sono disponibili, eccoli qua, posso anche trasferirli, perché se volessi mandarli, sull'account dei derivati, o il Bybit account, ho solo da inserire qua, la cifra, e spostarli. Esempio, mettiamo bene, 50 dollari, sull'account, future. Ed ecco qua, la conferma, dello spostamento, spostamento avvenuto, e se vado nei derivati account, mi ritrovo, eccoli qua, i miei USDT, anche qua dentro, e qua dentro, ci possono stare anche TH, EOS e XRP. Spettacolo Bybit, spettacolo di exchange, spettacolo di wallet spot, una vera bomba, veramente, sui derivati, sugli inversal perpetual, quindi sui future, ed è veramente, uno spettacolo, nella gestione degli asset, e quindi del portafoglio. Adesso anche, con i prelievi istantanei, ragazzi mi raccomando, non cominciate a, ma forse va, non va, non va, siamo in fase, di soft launch, vuol dire, che 26 agosto 2021, Bybit da oggi, permette, i prelievi istantanei, che da oggi, sono disponibili, a volte sì, a volte no, ci stanno lavorando, implementano, aggiungono nuove monete, sette giorni, dieci giorni, dentro questo mese, anche Bybit avrà, una marea di monete, immediatamente prelevabili, in forma, totalmente anonima. Buona giornata a tutti, un saluto da Mr. Crypto, da Bybit, e ricordatevi, di iscrivervi, nei link che trovate, nelle descrizioni, sotto tutti quanti, i nostri video, e quindi anche in questo qua, che stiamo preparando oggi, su Bybit Exchange, ciao ciao ragazzi,